Quest'anno presentiamo la nostra piastra a taglio termico più performante in assoluto, la nostra piastra SLK, che permette di supportare carichi elevatissimi su sistemi di isolamento a cappotto in facciata. La piastra è composta da un poliuretano in cui viene annegata un'armatura in acciaio, fibra di vetro e alluminio, che permette di fissare e creare addirittura balconi a taglio termico completamente disgiunti dalla facciata. Ogni peso, da quest'anno in poi, verrà attaccato e ancorato dall'esterno sulla facciata tramite il nostro disgiuntore termico più performante. La piastra SLK è una piastra ultra performante a livello di tenuta, ponte termico e conducibilità termica. Ha comportato ben 8-12 mesi di test severissimi presto il nostro settore di ricerca e sviluppo ed è stata oltretutto testata dall'ente di omologazione tedesco di IBT, insieme anche all'ente certificatore TUV. Questo ci permette di mettere sul mercato un prodotto non solo ultra performante e testato con livelli di sicurezza altissimi, testato internamente, ma anche certificato da enti riconosciuti in tutta Europa, se non in tutto il mondo. La piastra va ad affiancare quello che c'è sul mercato per quanto riguarda i disgiuntori termici più performanti, quali anche Shock e via dicendo. Ci riteniamo in grado di fornire un prodotto ancora più performante, migliorativo e di facile posa. Sicuramente i nostri clienti saranno contenti, gli ingegneri ne trarranno benefici a livello di progettazione perché risolviamo tantissime problematiche legate al ponte termico che molte strutture e molte soluzioni tecniche che creano in un sistema di isolamento a cappotto e quindi per noi la presentazione in fiera oggi è di fondamentale importanza. Non solo parliamo di SLK ma parliamo di tantissimi altri prodotti, quali taglierine per sistemi di isolamento, pannelli di isolamento, quindi taglierine per EPS, taglierine per pannelli in poliuretano, in fibra di legno e in lana di roccia. Per ulteriori informazioni potete visitare il nostro sito www.dosteba.de o chiamare comunque il nostro numero che trovate sul sito web.